I carabinieri di Agrigento durante un controllo antidroga nel centro storico di Grotte hanno arrestato un romeno di 30 anni per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato dai militari a un posto di blocco, col suo nervosismo ha insospettito i militari dell'arma che hanno proceduto a una perquisizione personale. Dalle tasche dei suoi pantaloni infatti sono saltati fuori tre ovuli di cocaina pronti per lo spaccio. Grazie a tutti.